Musica Grazie a tutti. Gallone, Cercuoli, Ciancio, Dicara, Dicidio, Fernando, Ciannone, Giuliano, Durinotta, Qué Pucina, Ciancio, Deliro, Dicare, Ciancio, Dicante, CianELLA, Ciancio, Dicata, Casimo, Soraya, Dicenio, o a due collo. E' un'imagine che si è un'imagine 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 è un'imagine 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 che si Allora, ci sono 12 presenti 12 assenti per la Presidente sono giustificati i consiglieri con lei? Lo apriamo subito Il primo punto all'ordine dei lavori di oggi che deve essere necessariamente il primo per poter andare avanti a votare la proposta di deliberazione a meccato oggetto la modifica della composizione della commissione consigliare permanenti credo che tutti l'abbiate ricevuta e quindi c'è qualcuno che non è un altro ufficio non credo che qualcuno vuole intervenire perché degli esplodatori oggi saranno vediamo un po' di Liotta Rinaldi e Guglietta grazie qualcuno vuole intervenire su questione libera sì consigliere grazie grazie Presidente in data le 11 10 del 2019 il consigliere Degidio Luca eletto del gruppo politico del Partito Democratico Giacchetti sindaco ha comunicato tramite una nota protocollata con il numero 22 92 63 la sua adesione al nuovo gruppo politico Roma Tornaroma Giacchetti sindaco in data 1610 del 2019 nella seduta della conferenza dei presidenti di gruppo è stata recebita la nuova adesione e di conseguenza si è proceduto diciamo la dipartizione degli incarichi all'interno di ciascuna commissione e ovviamente sempre rispetto della proporzione di rappresentanza dei gruppi consigliari e come l'articolo 43 del regolamento del municipio di Roma nel settimo municipio sono state attreguite tre commissioni consigliari permanenti ossia la commissione seconda con delle attività produttive turismo sviluppo locale servizi pubblicitari legalità e sicurezza sono state attribuite sempre al consigliere del Cipio la commissione quarta con delle politiche sociali e politiche abitative e infine la commissione quinta con delle scuola cultura sport e politica giovanile inizio scolastica inoltre una commissione speciale dei pari opportunità e auguriamo al consigliere del Cipio un buon lavoro soprattutto della veste del mio capogruppo grazie ci sono altrimenti continuamente generazione dei voti e danno votazione favorabili contrari a salute a valutazione del Cipio del Cipio del Cipio e ma il Cipio è un buon lavoro Assolutamente, l'immediata eseguibilità, votiamo l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrarie, sostenuti, mi sembra sia stata concessa di grazio gli uffici di avermi ricordato l'immediata eseguibilità. Sì. Allora, punto 2, invece, la proposta di deliberazione a metodo oggetto, autorizzazione e iscrizione ai centri sociali anziani del municipio Roma 7, di anziani residenti nel municipio Imitoghi. Sì. C'è qualche adore? Sì, consigliere principato. Grazie, Presidente. Volevi che consigliere? La proposta di oggi del Perù ha ricevuto una parere favorevole da parte della Commissione Politiche e Sociali. Il 4 di ottobre 2019 è pervenuta in commissione con rispettiva i pareri favorevoli del 3 settembre 2019 del direttore dell'area socio educativa, dottor Fabio Eraghi e del direttore del municipio dottor Marcello Medichini. Questa richiesta è una formalità, questa libro è una formalità che viene richiesta alla Commissione Politiche e Sociali e al Consiglio Municipale per consentire e autorizzare la riscrizione degli anziani residenti nei municipi limitati nei centri anziani del settio municipio. Quindi sono per me una serie di richieste di alziani appunto iscritti ad altri municipi che richiedono appunto di passare alle tre licenze anziani del nostro. La discussione in commissione è stata diciamo molto serena nel senso che come diceva è una formalità piuttosto tecnica che politica e quindi oggi ci troviamo a esprimere questo voto definitivo anche come in via di seguipita per consentire appunto che gli uffici possano poi procedere alla parte finale della cosa e quindi autorizzare definitivamente il passaggio. Il progetto sia necessario aggiungere altro. Sono presenti in aula il vice coordinatore delle cerzioni municipali, il signor Merenda, e poi dei presidenti dei centri anziani coinvolti diciamo dei passaggi da un centro anziano all'altro. Quindi io non aggiungerei altro che lo so se magari il coordinatore o qualcuno vorreste intervenire insomma di darvi la possibilità di farlo. Grazie Presidente. Allora, ci sono altri interventi? Non ci sono interventi di dichiarazioni di voto, neanche andiamo direttamente in votazione. Allora, voi? Sì, ci sono contraria, stenuti? Allora, sono tredici voti favorevoli quindi anche questa viene approvata dall'unanimità e anche per questa chiediamo l'immediata. Preseguipito, favorevoli, puntari, astenuti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, grazie a tutti. Buonissimo, quindi la seduta si più del oui, alessi 25.